ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare maltoflor dupitalia srl ultimo aggiornamento primo aprile 2019 immagine maltoflor a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze allergeni ingredienti tabella nutrizionale a cosa serve maltoflor è un integratore appartenente alla categoria degli integratori di probiotici è commercializzato in italia dall'azienda dupitalia srl informazioni commerciali titolare dupitalia srl concessionario dupitalia srl categoria di appartenenza integratori di probiotici confezioni maltoflor 15 e 50 g 10 bustine indicazioni integratore alimentare con saccarumice sboulardii 2,4 miliardi per bustina ad azione probiotica vitamine minerali maltoflor è utile per l'equilibrio della flora batterica intestinale durante terapia antibiotica durante viaggi nei paesi a clima tropicale o con bassi livelli igienici il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare il magnesio contribuisce all'equilibrio elettrolitico le vitamine a b1 b2 b6 c ed i3 contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario e del metabolismo energetico modalità d'uso dosaggio lattanti 1 bustina al giorno bambini e adulti 2 bustine al giorno sciogliere il contenuto di una bustina in 150 ml di acqua e camomilla latte si consiglia la somministrazione a digiuno o almeno 15 minuti prima dei pasti a piccoli sorsi per evitare la distensione gastrica e il conseguente riflesso del vomito descrizione e caratteristiche maltoflor è indicato per lattanti bambini e adulti maltoflor può essere somministrato contemporaneamente agli antibiotici il gusto neutro ne favorisce l'assunzione da parte dei lattanti e dei bambini avvertenze non superare la dose giornaliera consigliata non mescolare il prodotto con liquidi troppo caldi se i disturbi persistono consultare il proprio medico tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia equilibrata e uno stile di vita sano allergeni nella produzione di saccharomyces bollardii vengono utilizzati derivati del latte che risultano analiticamente assenti nel prodotto finito non contiene lattosio caseina né beta lattoglobulina ingredienti malto destrine fruttosio potassio fosfato magnesio citrato saccharomyces bollardii mia 796 malto destrine tit 20 miliardi barra g anti agglomerante biossido di silicio vitamina c acido l scorbico vitamina acetato retinile acetato saccarosio amido tit 9 75 per cento vitamina d3 col calciferolo trigliceridi a media catena saccarosio amido modificato tit 0 e 25 per cento vitamina b6 cloridrato piridossina cloridrato vitamina b2 sodio 5 fosfato riboflavina sodio 5 fosfato vitamina b1 cloridrato tiamina cloridrato fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato